buongiorno a tutti e buona giornata e buon fine settimana cari amici sottoscritto nicole da lucia per questa nuova giornata con il primo video dedicato al calcio maschile serie b giornata numero 24 l'anticipo del venerdì sera giocato a pescare tra pescare cittadalla finito 2 a 1 in favore del cittadalla grazie alle reti di diov del cittadalla nel primo tempo sopraggiunto sempre nel primo tempo da zappa del pescara sorpasso decisivo del cittadalla di iori al 75esimo della ripresa sul rigore vittoria del cittadella quotata abbastanza bene a 32 80 287 in classifica a questo punto abbiamo il cittadella in zona playoff settimo posto quota 36 punti il pescara perde qualche punticino ma resta sempre lì in zona play alla ricerca di un posto al sole playoff in attesa ovviamente le partite delle squadre che le seguono e che le precedono decimo posto per gli adriatici con 32 punti il cittadalla nella prossima partita il 22 febbraio sarà impegnato in casa contro la juve stabia che lotta per un per non retrocedere quindicesima posizione con 29 punti il pescara invece giocherà il 23 febbraio a crotone crotonesi secondo in graduatoria a quota 37 punti che vengono da tre vittorie nelle ultime cinque partite quindi chiudo questo primo video ribadendo il cittadalla vince a pescara per 2 a 1 ciao a tutti